Può partire Rosina da polizia centrale, si propone Motta, ha pronto a cross quest'ultimo, il suggerimento che parte sul secondo palo, Lecoba che ha battuto, ballo in calcio d'angolo, grande azione del Torino. Zanetti, il lancio a cercare Stellone che prolunga di testa, sull'altro palo c'è Rosina, altro colpo di testa, ballo alto, altro che l'arco del Torino. Lecoba cerca in qualche modo chiara, che entra in area, dietro la battuta, ballo, ma la palla è qui, arriva Stellone sul fondo. Angolo già battuto nel mucchio, palla che arriva a Diloreto, la sua battuta, qua si pierde il pallone, poi Motta, grande conclusione, traversa, traversa di Motta. L'isca l'arbitro, sarà Recovala, la battuta, la traversa ancora, Bonino davvero molto sfortunato. Boucher, il cross, dentro, Zanetti, la palla sul fondo, grande azione per Lempoli, ed è il primo vero pericolo, portato dalla formazione toscana. Raggi, ancora in mezzo per Budel, pallone in approfondità, si muove Zanetti, esterno della rete. Angolo, grandissimo, tagli di Zanetti, ancora Lempoli, vicinissimo ai gol. Motta, rilancio per Stellone, Stellone che salta piccolo, grande a tutti, Stellone, guarda Stellone, Zanetti, lo balli. E poi in due tempi recupera il portiere dell'Empoli. Sfiguramento per Di Michele, veloce Di Michele, riesce a balli, fornito in porta, ancora Di Michele, il porto di Corco, Zanetti. Vannucchi, pallone per Giovinco, cerca ancora Vannucchi in area, prova Vannucchi! L'albolo in contatto, al 43, con il secondo tempo.